A così tante radici, l'albero della rabbia, che a volte i rame si spezzano prima di diventare frutti. Sedute a Nidix, le donne si radunano prima della marcia, discutendo dei vari problemi causati dalle ragazze che assumono per sentirsi libere. Un barista quasi bianco ignora un fratello che aspetta, servendo prima loro. E le donne non notano e neanche rifiutano i piaceri più sottili della loro schiavitù. Ma io, che sono incatenata a questo letto, tanto quanto al mio specchio, vedo le cause nel colore, tanto quanto nel sesso, e mi siedo chiedendomi quale me sopravviverà a tutte queste liberazioni.